Ciao a tutti ragazzi, qui è Brulite e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo video del pacchetto montato. Allora ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto una farm di lingotti con il nostro golem messo all'interno della nostra farm di bush che poi con i vacuum hopper prende tutta la roba che viene appunto droppata, le porta nell'autocrafting che poi porterà i vari lingotti nell'ender chest collegata a questa e verranno poi tutti smistati nelle chest. In questo episodio invece andremo a fare una farm di wisp che sono quei mob ostili che di solito si trovano nella towncraft che sparano tipo dei fulmini, dei piccoli fulmini e che fanno diciamo molto danno, sono molto fastidiosi perché poi volano. Qualche episodio fa io li cercavo appunto là nella towncraft però non ho trovato nessuno spawn e poi so anche che stanno nel nether e quindi ne sono andato a prendere uno nel nether con la solvia, con questa boccetta e come vedete al suo interno abbiamo un wisp un wisp che andremo appunto ad utilizzare per fare uno spawner di wisp che poi ci porterà a fare una farm di wisp. Tutto questo verrà messo nel piano sotterraneo dove c'è la farm di zombie, qua c'è un'altra stanza, qui c'è un'altra ancora e poi qui c'è questa stanza con un tesseract. Sopra questo tesseract verrà messo appunto lo spawner che poi inizierà appunto a spawnare i wisp. In queste altre stanze invece andranno messe delle altre farm, anzi degli altri spawner, come ad esempio in questo andremo a mettere due spawn di blades che cercherò di prendere anche in puntata, mentre di qua invece ancora ci devo pensare, per il momento è vuota. Quindi cosa ci serve a noi? Ci serve la boccetta, la solvia e poi ci serve un powerhead spawner ma soprattutto anche un soulbinder che io ho già craftato, non so parlare. Un soulbinder che come leggete è usato per convertire il tipo di un broken spawner quindi noi andiamo a prendere un broken spawner, eccolo qui, no non prendiamo questo di case spider ma prendiamo questi di skeleton dato che ce ne abbiamo quattro, ne prendiamo uno. Poi andiamo qua dentro, ecco qui già pronto il soulbinder. Ora noi che andiamo a fare? Andiamo a mettere la boccetta più il broken spawner dentro il soulbinder. Lo andiamo ad attaccare qui da questa parte, ok c'è tutto, perfetto. Poi facciamo così, così prende energia a posto e quindi in teoria lui lo sta trasformando, tipo, ok si a posto, progress ci sta. Quindi noi aspettiamo e dopo che fa appunto tutto questo noi intanto prendiamo anche il powerhead spawner che è questo qui. Il powerhead spawner come vedete combina un broken spawner, cioè tu combini questo con uno spawner nella anvil. In questo modo lui ti darà appunto lo spawner, in questo caso di wisp. Ah, è un pochetto lento però va bene. Quindi noi poi andiamo nell'anvil e mettiamo lo spawner con il power spawner e poi quello che ci darà lo andremo a mettere sopra il tesseract e così andremo a vedere se il tutto funziona. Andiamo un po', qui siamo al 50%, ok. Nel frattempo ci prendiamo anche questa esperienza qui. sono sicuro che mi serviranno dei livelli perché comunque devo unire due oggetti nella anvil, quindi prendiamo un po' dei livelli e a questo punto andiamo un attimo qua sotto perché vi parlo un attimo dei blades. Allora, noi prenderemo due spawner dei blades, no? E li mettiamo qui, uno sopra l'altro come ho fatto con i zombie e poi anche qui andremo a mettere sia la turtle che gli oggetti che sono lì all'interno che li spingono verso il centro adesso non mi ricordo il nome e quindi poi la turtle li ucciderà. Li ucciderà e poi ci daranno appunto le blaze rod. Mentre i wisp non avranno tutta questa struttura, tutti questi macchinari e quindi poi vediamo se li uccido io o comunque mettiamo qualcos'altro però per il momento li uccido io perché poi i wisp ci andranno a droppare delle essenze e quindi queste essenze poi ci serviranno appunto per fare alcuni crafting nella towncraft. Infatti se noi, aspettate, se io clicco tipo, cerco, essence, vediamo un po'. Queste sì, dovrebbero essere le ethereal essence che come vedete ci hanno aria, terra, ignis, acqua, fuoco, tutte le cose per due, quindi queste sono tutte le cose che ci serviranno poi in un secondo momento quando andiamo ad utilizzare nuovamente la towncraft. Siamo al 90%, quindi non manca tantissimo. Ok, siamo arrivati al 100%, ci ridà la bottiglietta e poi ci dà il broken spawner con scritto wisp. Ora noi lo prendiamo, andiamo nell'invil e mettiamo povered spawner più broken spawner. Costa 30 livelli, fresca! E io ne avevo presi 13. Vabbè, prendiamo questi 30 livelli, no problems. Ok, 30 livelli. E qua ci dà il power spawner con scritto wisp. Wisp, supply with power to activate, upgrade with capacitor to increase speed energy storage. Ok, lo dobbiamo mettere appunto vicino a qualcosa con l'energia per attivarlo, però poi lo possiamo anche aumentare con dei capacitors per velocizzarli o per aumentare l'energia di storage. Quindi noi li prendiamo, prendiamo il nostro power spawner e poi lo andiamo a mettere, non ho livelli per scendere con l'elevator, e poi noi lo andiamo a mettere sopra il nostro tesseract che appunto gli dà energia. Quindi vediamo un po', tasto destro. Allora, ci chiudiamo un attimo. Togliamo le torce, anzi togliamo... Togliamo le torce laggiù. Una sopra di me la lascio. Perché se no voi non vedete niente. Allora, facciamo un attimo di questo. Oppure facciamo così. Ok, ecco, a posto. Sì, sono spawnati e mo mi rompono subito il culo. Vediamo un po'. Io, aio! Ecco, ecco, già lo sapevo, non dovevo fare sta cosa. Dove è andato? Dove è andato? Non lo vedo, non lo vedo, non lo vedo. Eccolo, ok. Ha già droppato qualche essenza. Loro non ti danno fastidio, però se tu li inizi appunto a toccare iniziano a menarti anche loro. Se no all'inizio, vedete, come vedete, sta là, fermo. Allora, nel frattempo abbiamo preso delle essenze di Telum, due di Ordo e poi due di Perdizio, a posto. E quindi queste sono delle ottime essenze per poi fare di crafting con le boccette della Towncraft. Se vi ricordate io ho fatto anche un'altra farm di là per poi dividere tutti quanti gli elementi nelle diverse boccette. Però comunque i Wisp, cioè fanno male perché fanno male, però comunque sono carini, no? Che stanno là? Oh, questo è figo, questo è blu. Questo è blu, che mi dai? Acqua, vero? No. Instrumentum. Ecco, vedete, Instrumentum io non l'ho mai visto nella Towncraft. Perdizio, Ordo, Telum. Telum non mi è nuovo, però anche Telum non lo ricordo. Però Instrumentum non so cosa sia, è la prima volta che lo leggo. Quindi come vedete ci dà, o ci dà anche elementi rari, o comunque nuovi elementi, perché io questi con i vari oggetti non l'ho mai visti. Qua, Ignis, a posto, Ignis sì. Vediamo un po', tu che mi dai? Oh. Eh, ma insomma che mi ha dato un altro, un altro aria qui, che cos'è? Ok, ne sono spawnati 4 adesso. Il problema è che se li inizio a toccare tutti, acqua, a posto. Cerchiamo di prendere più essenze possibili, così abbiamo sempre qualcosa di nuovo e di diverso. Vediamo un po', tu che mi dai, tu che mi dai? Ignis, un'altra acqua, vabbè, uccidiamo a te e poi basta, lasciamo perdere. Ah, un'altra cosa volevo vedere. Ma a te non ti ho toccato, che vuoi? Volevo vedere quanta esperienza mi dà. Credo pochissima, eh. Porco, 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 porco. Allora, volevo vedere un attimo l'esperienza, però mi stanno un attimo rompendo perché mi hanno attaccati in più persone. Ora, con l'arco li posso prendere? Assolutamente sì. E io vi do fuoco. Usciamo un attimo. No, 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 era una brutta idea. È una bruttissima idea. Tranquilli, scusa, chiedo scusa, non avevo capito che ce l'avevate con me. Prendiamo queste ultime essenze. Esperienza... Oh, oddio. Non è male? Non è malissimo. Ok, a posto. E poi qua chiudiamo per il momento. Mortacci vostri. Se fate male. Allora, questo è Auram. Modus sim, lo ricordo, Auram. Auram no. Questo, vabbè, terra. Ok, a posto. Abbiamo fatto anche questa farm. Ora, però, dobbiamo pensare ai blades adesso. Ora, non mi dire... No, quello non è un wisp. Perché io bestemmio? Perché l'ho cercato di ovunque? Sì, sono dei wisp. Ma io l'ho cercato di ovunque. Ma stiamo scherzando. Comunque questa è un'altra towncraft che ho trovato. Perché appunto, nella towncraft mia non trovavo niente. E, cioè... Vabbè. Io ho girato... Questa è la towncraft dove abbiamo tutta la roba, no? E qua io ho girato tutta. L'ho girata tutta. Non ho trovato niente. Adesso vado nel nuovo towncraft che avevo girato anche un po'. E li trovo appena spawno. Mentre aspettavo appunto di trovare dei wisp. Avevo anche piantato altri mana bin. Che come vedete sono cresciuti. Ci mettono un sacco, ragazzi. Ma un sacco, un sacco, un sacco. E quindi per il momento io l'ho piantato qui su questo albero. Come vedete anche qua sotto. E ogni mana bin, come vedete, ha un colore diverso. Perché anche loro hanno un elemento diverso. Ad esempio questo ha limus 1. Si, limus 1. Poi c'è acqua e altre cose simili. Però ci mettono troppo, troppo, troppo a crescere. Ora entriamo qui, no? In quest'altra chest. Qua c'ho. Ecco, le terre all'essenza di terra e di victus. E poi qualcos'altro. Quindi lasciamole qui. Tutte queste a posto. Così ci liberiamo un po' l'inventario. Però come vedete abbiamo altre essenze. Che non è male. Non è male. Ora torniamo a casa perché dobbiamo andare nel nether. Dobbiamo andare nel nether. E dobbiamo andare a uccidere appunto un po' di gente. Ma soprattutto dobbiamo andare a prendere i nostri spawn di blades con il jabba. Dov'è il jabba? Eccolo qui. Con il diamondolo in realtà. Il jabba è la mod. E poi se non sbaglio. Qualche segnalino già ce l'ho. Ecco. Ce l'ho già un blades. Però due no. Uno ce l'ho. Ma l'altro no. Allora noi andiamo qua. Lo facciamo così. Entriamo. E ce lo rubiamo. Poi torniamo qui. Facciamo jay. Facciamo così. E facciamo portale. Scendi. Scendi. E poi andiamo di fronte ai zombie. Li mettiamo qua. Quindi. Lo mettiamo sopra. Ok. Poi. Eh porcaccio cane. Sono già spawnati. Aspetta ce l'ho il. No. Si è rotto il dolly? No. Quando l'ho posizionato si è rotto. Dai. Cerchiamo. Il dolly. Eccolo qui. Ci vogliono tre diamanti. E poi questo. Ok. Facile. Ah. Poi ragazzi. Io. Avevo fatto qualche cesto in diamante qui. Come avete visto no. Allora ho pensato. Perché non farle tutte in diamante. Visto che ci sono. E quindi. Io ho fatto il seme del diamante. Ecco qui il seme del diamante. Che poi ci darà appunto le essenze. Ah. Però aspetta. In teoria. È cresciuto già. Eccolo. Essenza di diamante. Ne abbiamo due. Ci ho dato qualche altro seme. E sembra di no. E poi con le essenze del diamante. Quanti me ne servono? Otto. Per fare un diamante. Quindi ci metterò un po'. Uno. Due. Tre. Li prendiamo. E andiamo a fare il dolly in diamante. Ok. A posto. Quindi ora. Andiamo a cercare lo spawn di blades. Naturalmente poi mentre cerchi. Quello che ti serve. Cioè dei blades. Trovi. Dei guida e scheletron. Che ti droppano la testa. Ti droppano l'osso. E poi ti danno anche un raro. Loot bag. Ma soprattutto trovi una cesta. E cosa trovi dentro questa cesta? Due diamanti. Quindi li prendiamo. E adesso ragazzi. Come vedete ho l'inventario pieno. Però noi abbiamo fatto l'under pouch. E quindi mettiamo questi. Questo. 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 Allora. Quindi adesso lo possiamo aprire. Vediamo un po'. 3 di copper. Delle rail. Anzi di track. Una nintag. E un totem tool. Che minchia è il totem tool? Cioè sono curioso. Recype niente. Niente. Testo. Destro. Sinistro. È un piccone. Fa qualcosa. Non so. No. No. Vabbè. Vabbè. Facciano i gacchi nostri. A posto. Ho trovato anche il secondo. Cia. Sono fan. Muori. 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 A posto. Dolly. Yeah. Allora andiamo giù. Apriamo la prima. Apriamo la seconda. 4 blades. 3. 2. Cacchina. Si è sponato di altri. Lo so che il mio scopo è solo piazzarlo. Però. V'ammazza a tutti. V'ammazza a tutti. Non andate in nessuna parte. Ok. Rompiamo questo. E piazziamolo. Ok. GG per noi. Double Blade Spawner. Quindi. Torniamo su. E. Possiamo concludere qui. Il nostro episodio. Però. Prima. Avriamo questo. Common loot pack. Con. Pillowashish. Ashish. Quindi ragazzi. Per questo episodio del pacchetto modalità è tutto. Spero vi sia piaciuto. Vi ricordo. Se non vi piace. Di commentare. Di condividere questo video. E. Se l'avete ancora fatto. Iscrivervi al canale. Pagina. Facebook in descrizione. Instagram in descrizione. Telegram in descrizione. Instant Gaming in descrizione. Quindi. Ciao a tutti da Blue Light. Ciao. 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 Ciao.